La stazione M4 Sforza Policlinico si trova a lungo via Francesco Sforza e riveste un ruolo particolarmente importante in quanto servirà direttamente l'ospedale maggiore Policlinico di Milano con un'uscita dedicata e l'Università degli Studi di Via Festa del Perdono. Non solo, grazie ad un camminamento ciclopedonale favorirà il passaggio tra M4 e la stazione Missori M3. In occasione dell'apertura della nuova stazione il Comune di Milano ha deciso di realizzare alcuni interventi per valorizzare ulteriormente un'area di grande valore storico ricca di edifici di pregio. Oggi via Francesco Sforza infatti si presenta come un'importante strada a scorrimento veloce di autobus e bus poco attrattiva per il transito pedonale. Il progetto prevede la riqualificazione dell'area adiacente alla Cagranda grazie ad una pavimentazione lapidia che determinerà un nuovo spazio pedonale così da collegare via Sforza e largo Ricchini. L'incremento del verde con nuove aree e la posa di nuove alberature. La creazione di nuovi spazi attrezzati per lo studio all'aperto. La riqualificazione dei marciapiedi lungo via Sforza e la realizzazione di una pista ciclabile. Per sapere tutto su M4 vai su metro4milano.it